buongiorno buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di video 33 rassegna stampa breve di questo sabato 3 di giugno weekend di pentecoste con il sole ce lo conferma anche oggi l'immagine webcam che ci arriva da brunico plan de corones neve sulle vette come naturale che sia ma cielo sereno per una giornata che sicuramente farà affollare i lidi in tutto l'alto adige vediamo però nello specifico col contributo del meteo della provincia di bolzano le previsioni condizioni meteorologiche un promontorio anticincronico interesserà le alpi il tempo di oggi mattinata per lo più soleggiata nelle ore più calde sviluppo di nubi cumuliformi e conseguenti temporali isolati temperature massime da 24 a 32 gradi adesso con l'aiuto di matteo berto in regia vediamo le prime pagine dei quotidiani partiamo con l'alto adige apertura dedicata a bolzano bivacchi in strada emergenza migranti in centro il sindaco si ribella per quanto riguarda invece il corriere dell'alto adige l'apertura è dedicata al festival dell'economia di trento e il ministro padovan che rassicura le autonomie non ci sono esigenze per chiedere sacrifici la crescita nel 2017 ridurrà il debito passiamo adesso all'informazione in lingua tedesca passiamo alla taghe zaitun che apre con un'intervista dedicata a elio dell'antonio che parla del pericolo eroina e del grande consumo che ne fanno i giovani per quanto riguarda invece il dolomitten apertura dedicata alla mancanza di personale nelle scuole 150 sono le insegnanti che andranno in pensione e allarme invece per quanto riguarda anche la zanzara tigre appunto causa il grande caldo e naturalmente anche l'umido vediamo il corriere della sera per l'informazione nazionale si parla di legge elettorale grillo salva l'intesa con renzi leader del movimento 5 stelle gli iscritti hanno dato il via libera online boschi l'accordo terra passiamo all'economia economia della siutirole wirtschaftzeitung il settimanale in lingua tedesca che ci parla di in un approfondimento di quelli che sono i pericoli che stanno attraversando tutto il mondo a causa degli attacchi numerosi appunto attacchi cibernetici per quanto riguarda invece il sole 24 ore l'intervista al segretario del partito democratico matteo renzi la manovra non va sprecata stop alliva tagliamo le tasse appunto renzi dice l'italia respinga i diktak dell'unione europea su banche venete e npl adesso prima di chiudere vediamo gli appuntamenti importanti a partire da quello di oggi 3 giugno orteler bike marathon il 9 invece di giugno yogustival mila sarentino la mila appunto festeggia i 40 anni di raccolta capillare del latte in val sarentino il 9 giugno ancora cavalcata di oswald von volkestein a susi a me non resta altro che salutarvi ricordarvi comunque un appuntamento importante sportivo stasera alle 20 e 45 a cardiff si giocheranno la champions league la coppa dei campioni juventus e real madrid sicuramente un appuntamento da non perdere sia per i tifosi bianconeri ma naturalmente per quanto riguarda tutti gli amanti del calcio adesso è davvero tutto un buon fine settimana e una buona giornata